Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Erika, siamo allo stand di Lenovo E qualcuno vuole morire Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Erika, siamo allo stand di Lenovo e questo è Moto X4 Ve lo faccio vedere subito dopo la sigla Eccoci qui in compagnia di Moto X4, come vedete il design ricalca perfettamente quello degli ultimi telefoni di Motorola È realizzato, come vedete, così, questo è metallo, qua è plastica e ovviamente è coperto dal vetro che protegge il display da 5,2 pollici È un IPS con risoluzione Full HD, è bellissimo come al solito Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 630, quindi non esattamente il più alto tra i processori di Snapdragon Che classifica praticamente come mid-range questo Moto X4 Ma non fatevi ingannare perché in realtà ha tutte le caratteristiche per dare il delfilo da torcere ai top di gamma Abbiamo infatti 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna che potete espandere tramite micro SD fino a 2 Tera Quindi avete un sacco di spazio dove mettere tutte le foto e tutti i video Foto che potete fare con la doppia fotocamera posteriore, due sensori 12 megapixel e 8 megapixel E il flash LED ovviamente immancabile Sulla parte frontale invece la fotocamera è da 16 megapixel Praticamente potete fare tutti i selfie dell'universo La cosa che adoro poi è che il connettore che non potete vedere perché è occupato dall'antiladreggiamento qui È un Type-C come piace a me Ovviamente la connettività è anche Wi-Fi, Bluetooth da 5.0 Vuol dire che potete collegare due dispositivi contemporaneamente Per quanto riguarda la rete invece ha un dual SIM Quindi potete usare una SIM per casa, una per il lavoro, due SIM per il lavoro Potete fare quello che volete, c'è un sacco di posto per le vostre SIM e per i vostri numeri di telefono Questo Moto X4 è anche super resistente Siamo di fronte a un dispositivo con certificazione IP68 Vuol dire che resiste sia all'acqua sia alla polvere Quindi non gli potete fare praticamente niente La batteria da 3000 mAh Ottimizzata come succede per tutti i telefoni di Motorola Quindi arrivata a fine giornata senza troppi problemi L'ultima cosa che volevo dirvi è che le colorazioni di questo Moto X4 sono due Noi abbiamo questa che è grigia È sbarluccicoso ma è grigio E c'è anche sbarluccicoso ma blu Il prezzo è 449 euro Ma ho dimenticato di dirvi la cosa più importante Quanto sia che questo telefono sfrutta Alexa Cioè l'assistente vocale di Amazon Quindi avrete un aiuto in più per fare tutte le vostre cose quotidiane Quindi per settare degli appuntamenti Per chiedergli il metodo Per controllare i vostri appuntamenti di lavoro Insomma è fighissimo Se dovete usarlo sia per scopi personali Sia ovviamente per lavoro Direi che vi ho detto praticamente tutto su questo Moto X4 Se avete delle domande ovviamente potete farle sempre nei commenti Sui social dove volete E noi ci vediamo al prossimo video Ciao